In via Buonarroti, all'angolo con via Petrarca, esistono ancora gli antichi edifici industriali della famosa fabbrica di cioccolata Leger. Niccolò Leger era un giovane francese, arrivò a Trieste nel 1858 e trovò nella nostra città lavoro e fortuna. Impiegato in un primo tempo nella fabbrica dolciaria di proprietà di Angelo Valerio, si mise subito in proprio, creando quella che diventerà un'industria di cioccolato di fama internazionale. Dopo breve tempo e grazie alla bontà dei propri prodotti, Niccolò Leger ottenne l'esclusiva della fornitura all'imperial regia marina da guerra e questo fu il trampolino di lancio in campo mondiale. Da quel momento il suo gustoso prodotto ebbe un successo incredibile. Vi furono ben due conflitti mondiali ma la fabbrica non cessò mai di produrre. Nel 1927 l'azienda venne venduta a Giorgio Georgiadis, che a sua volta la rivendette quattro anni dopo a Giacomo Morpurgo. Le fortune iniziali però non si ripeterono più e la gloriosa fabbrica fu costretta a chiudere i battenti negli anni 50.